La situazione dei cristiani in Iraq, l'importanza del dialogo interreligioso per la promozione della pace e il processo di riconciliazione. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro oggi in Vaticano tra Papa Francesco e il primo ministro del paese del Golfo, Haidara al-Abadi. Durante i cordiali colloqui, ha riferito la sala stampa vaticana, si è fatto riferimento al buono stato dei rapporti bilaterali, alla vita della Chiesa in Iraq e alla situazione dei cristiani e delle minoranze etniche e religiose che vivono nel paese. Con particolare riferimento all'importanza della loro presenza e alla necessità di tutelarne i diritti. È stato poi ricordato il ruolo del dialogo interreligioso e la responsabilità delle comunità religiose nella promozione della tolleranza e della pace. In tale contesto ci si è soffermato infine sull'importanza del processo di riconciliazione in corso tra le varie componenti sociali del paese e sulla situazione umanitaria nazionale e regionale. Grazie a tutti.